Meravigliosi figli del Tao, bentornati! Oggi andiamo a leggerci una nuova storiella del Chuanz. Questa storiella è una di quelle più classiche, più conosciute, ma anche peggio interpretate nella stragrande maggioranza dei casi. Molto spesso si ci ferma a un'interpretazione molto superficiale che non ci restituisce probabilmente il senso che Chuanz voleva dare inserendo all'interno del suo testo questa storiella. Insomma, non vi voglio spoilerare troppo, è la storiella del macellaio del principe Wen Hui, ve la lascio tutta in descrizione se volete leggervela, e qui invece ne riassumerò alcune parti, ne leggeremo altre, quelle più interessanti, ma insomma, leggerla tutta è un po' lunghetta. Praticamente la storia si apre dicendo che c'è questo macellaio del principe Wen Hui e ci descrive come questo macellaio si muove mentre disossa un bue. e ci racconta che questo macellaio danza con il suo coltello mentre appunto smembra la carcassa. Il principe Wen Hui osserva questo lavoro e a un certo punto domanda al macellaio Ehi, come può la tua arte giungere a un tale grado di perfezione? E il macellaio posò il coltello e disse Amo il Tao e così miglioro nella mia arte. All'inizio della mia carriera Scusate Non vedevo che il bue Dopo tre anni di pratica non vedevo più il bue Adesso è il mio spirito che opera Più che i miei occhi I miei sensi non agiscono più Ma soltanto il mio spirito Poi aggiunge Un buon macellaio consuma un coltello all'anno Perché taglia la carne Un mediocre macellaio Consuma un coltello al mese Perché lo rovina sulle ossa Questo mio coltello Mi dura da 19 anni E io non l'ho mai affilato Eppure sembra che sia stato molato di fresco Come fa questo macellaio a essere così bravo? Come fa a non consumare il suo coltello? Lui dice In verità Le giunture delle ossa Hanno degli interstizi Hanno degli spazi E il taglio del coltello Non ha spessore Colui che sa introdurre Il filo della lama In quegli interstizi In quegli spazi Usa agevolmente il proprio coltello Perché si muove Attraverso i vuoti E questo è il motivo Per cui sono 19 anni Che non lo affilo Ogni volta che devo dividere Le giunture dalle ossa Osservo le difficoltà da superare Mi concentro Fisso lo sguardo E lentamente procedo Con grande dolcezza Maneggio il coltello E le giunture si separano Cadendo al suolo Come terra che frana Ritraggo il mio coltello E mi rialzo Volgo lo sguardo intorno E mi distraggo Compiaciuto Con cura Purisco allora Il mio coltello E lo ripongo Nel mio astuccio Molto bene Disse il principe Wenhui Dopo aver udito Le parole del macellaio Ho capito l'arte Di conservarmi Ecco qui la storia La storia ci ricorda Subito una classica storia Zen per esempio Una di quelle storie In cui c'è Che ne so Il vasaio Che dopo migliaia di vasi A un certo punto Mentre è lì Che sta scolpendo L'ennesimo vaso Si illumina O quell'altro Dopo aver tagliato Centinaia Centinaia Migliaia Di canne di bambù A un certo punto Facendo sempre lo stesso gesto Ripetendo sempre la stessa cosa Si illumina Eppure questa storia Non ci sta raccontando Esattamente questa cosa Non ci sta raccontando Come potremmo immaginare Come tanti interpretano Il lavoro di un grande taoista Il lavoro di un taoista Che esprime se stesso Che esprime il suo rapporto Con il Tao Attraverso il suo lavoro Eppure ci sono un sacco di segnali Che il macellaio Del principe Wenhui È un praticante del Tao Per prima cosa dice Amo il Tao Quindi ci siamo Ce lo dice lui Ma soprattutto ci dice per esempio Che il suo modo da agire È quello di muovere il coltello Esclusivamente All'interno Negli spazi vuoti Lui si muove Attraverso i vuoti Dice Questo è tipico Taoista Dare grande importanza All'uoto e poca importanza Al pieno C'è un'altra grande componente Taoista Quando il macellaio dice All'inizio vedevo solo il bue Dopo tre anni non lo vedevo più E oggi vedo solo Neanche attraverso gli occhi Ma solo attraverso il mio spirito Il mio spirito Entra in relazione Con quella carcassa Con quel bue morto E di conseguenza Io mi posso muovere In maniera così armonica In maniera così fluida Quindi vedete Sembra quasi che Chuanz Stia portando questa storiella Per farci un po' parlare Con questo macellaio In modo che questo macellaio Ci insegni qualcosa sul Tao E certamente Come dicevamo Alcune parti del testo Risuonano molto Nella tradizione taoista Ma ci sono almeno Altrettante parti In cui Non c'è questa risonanza In cui noi capiamo Che la vera natura Di questo macellaio Non è quella di essere Un corretto praticante del Tao Mettiamola così Ma di essere Un po' più Un venduto Praticante del Tao Mi spiego C'è un passaggio L'abbiamo visto In cui il macellaio Si vanta E dice Un buon macellaio Consuma un coltello all'anno Uno mediocre Consuma un coltello al mese Io sono 19 anni Che non lo affilo Questo è un modo Di porsi al di sopra Di tutti Questo è un modo Per farsi bello Questo è un modo Per innalzarsi Ma questo non è assolutamente Quello che dovrebbe fare Un buon taoista Se andiamo a vedere Per esempio Il capitolo 8 Del Tao Te Ching Lao Tzu Ci sta parlando Dell'acqua Ci sta parlando Di come l'acqua Sia simile al Tao E dice L'acqua è simile al Tao Perché occupa Quello spazio Che nessuno Vuole occupare L'acqua Per natura Va sempre in basso Si accumula Sempre in basso Così come il saggio Taoista Non si pone mai Al di sopra Degli altri Si pone semmai Al di sotto Degli altri Nel luogo Che tutti Vi sdegnano Capite bene Che in questa circostanza Il macellaio Non sta seguendo I dettami Del taoismo classico Sta innalzandosi Sta gonfiando Il proprio ego Sta sentendosi Importante Dicendo questo Quindi vedete Che qui comincia Un po' a scricchiolare Il suo essere Un buon taoista Ma C'è stato un punto Della lettura Che io mi ricordo La prima volta Che l'ho letto Ho fatto proprio Che succede qua Quando dice Alla fine Ritraggo il mio coltello Lo pulisco Mi guardo intorno Cosa dice Mi guardo intorno Mi distraggo Compiaciuto Come compiaciuto E cavolio Quando l'ho letto Compiaciuto Ho detto No Compiaciuto No È il contrario Di nuovo Lao Tzu Capitolo 2 Capitolo 3 Del Tao Te Ching Dice Una volta che il saggio Ha compiuto l'opera Va oltre Non vi si sofferma Ed è proprio perché Non vi si sofferma Che quell'azione È un'azione perfetta Ovviamente Lao Tzu Ci sta parlando Della famigerata Non azione Ci sta parlando Del V-Way Che vi ricordo È quell'azione Che viene fatta Senza che ci sia Uno scopo Dietro Io non faccio Quella cosa Per ottenere Qualche cosa Faccio quella cosa Quell'azione Esclusivamente Per necessità Non posso Non farla Mettiamola così Ma capite che Se invece Alla fine Della sua opera Il macellaio Si compiace Ecco che Il compiacimento Diventa lo scopo Di quell'azione Il macellaio Si compiace Del suo essere bravo Di nuovo Si innalzano Ma perde La sua spontaneità Perché non farà più Quell'azione Per farla Ma farà Quell'azione In attesa Di ottenere Compiacimento Nei suoi confronti In attesa Che lui stesso Dica Guarda come sono bravo O che gli altri Dicano Guarda come sono bravo Questa Non è più Una nonazione Quindi di nuovo Questo Macellaio Certo è un praticante Del Tao Ma è anche Un praticante Del Tao Che non segue Bene Quelli che sono I punti di partenza I concetti Che sono dietro La filosofia taoista Ma forse Il passaggio Più Evidente Più Che più Ci fa capire Quanto questo Taoista Sia Un taoista Venduto Sono proprio Le prime Cinque parole Del testo Cuanzo ce lo dice Subito In realtà Siamo noi Che non lo notiamo Perché La storia La si apre Dicendo Il macellaio Del principe Di Wenhui La rileggiamo Il macellaio Del Del Principe Wenhui Del Non è Il principe Wenhui Incontra un macellaio No È il macellaio Del principe È un macellaio Che sta a corte Questo è un grande problema Per i taoisti Pensate Lao Tzu Lao Tzu Piuttosto che Essere Chiappato Da qualche corte Da qualche sovrano Decide di andarsi In eremitaggio Va via Lao Tzu Lao Tzu Schive il Tao Te Ching Perché Scappando dalla società Arriva alla frontiera La guardia lo riconosce E gli dice Maestro ma lei non ha lasciato niente di scritto Ci lasci qualcosa E il Lao Tzu Schive il Tao Te Ching Ma Lao Tzu sta Sfuggendo Dalle cariche pubbliche Sfuggendo Dall'essere Che ne so Il consigliere Di un grande sovrano E la stessa cosa farà Cuanzo Cuanzo ce lo racconta bene Ci dice Ero lì a pescare Arrivano due tizi Che mi dicono Siamo i messi del sovrano E il sovrano Riconosce la tua grandezza E ti sta chiedendo Di essere Il suo Primo ministro Il suo consigliere Cuanzo li guarda un attimo E risponde Mi dite per favore Che cosa c'è In quella cesta Sotto il trono Dell'imperatore Del sovrano Quelli ci pensano Dicono Ah sì C'è la tartaruga sacra C'è il guscio Della tartaruga sacra Tutta tempestata D'oro Di pietre preziose E Cuanzo a quel punto dice Secondo voi Quella tartaruga lì Preferiva essere Un guscio morto Tutto tempestato Di pietre preziose O avrebbe preferito Continuare a sguazzare Nel fango Trascinandosi Nelle paludi E quelli Ci pensano un attimo E dicono Beh sì In effetti La tartaruga Forse avrebbe preferito Continuare a vivere Nelle paludi E Cuanzo risponde Allora andate via Perché anch'io preferisco Muovere la mia coda Nel fango E vivere nelle paludi Piuttosto che venire a corte E attenzione Non è che i taoisti Rifiutano le cariche pubbliche Perché sono spocchiosi I taoisti Rifiutano la carica pubblica Perché sa perfettamente Che nel momento In cui l'accetta Dovrebbe perdere La sua natura Dovrebbe perdere Il suo contatto Con il tao Perché Dicevamo no È la non azione Se io faccio un'azione Che non deve avere Uno scopo Che non deve avere Un obiettivo Come faccio nel momento In cui sono a corte E sono sotto Il sovrano Come faccio a dire Faccio allo stesso Un'azione che non ha Un obiettivo Il sovrano Mi chiederà delle cose Vorrà raggiungere Degli obiettivi Quindi questa storiella In qualche modo Ci sta raccontando Come Cuanzo si domanda E ci fa domandare Quanto della nostra arte Quanto del nostro modo Di coltivare il tao Stiamo veramente Regalando allo sconosciuto Regalando al non essere Regalando all'altrove Quindi facendo Veramente una non azione E quanto invece Il praticare del tao Possa diventare L'arma Per per esempio Un sovrano Che ha degli scopi Che ha degli obiettivi Normalmente tragici Pensiamoci anche Cuanzo vive In un'epoca storica Della storia della Cina Anche Lao Tzu Anche Confucio Vivono tutti più o meno Nello stesso periodo Che è quello che Gli storici chiamano Il periodo degli stati combattenti Periodo in cui La Cina è divisa In sette stati Che si massacrano Continuamente Uno con l'altro Ogni giorno C'è un massacro Ogni giorno C'è un assedio Di una città C'è una battaglia C'è un intrigo C'è un assassino C'è un attentato Costantemente In tutto il territorio cinese Uno stato contro l'altro E pensate che Buona parte Del lavoro Di Lao Tzu Di Cuanzo Addirittura anche Di Confucio È proprio il tentativo Di frenare Questa barbare Di dire Oh raga Stiamo esagerando E quindi Questa storia Se noi la rileggiamo E diciamo Il macellaio Del principe Wen Hu Il principe Wen Hu È il sovrano Dello stato di Wei Che è uno di questi Sette stati Beh Quando noi diciamo Il macellaio E lo diciamo In un testo taoista Che sappiamo Quanto per il taoismo Le parole Siano cangianti Beh Non potremmo Identificare Questo macellaio Come per esempio Il suo esercito Che smembra gente Non potremmo Considerarlo Come un grande Combattente E allora Questo grande combattente Che ha donato La sua vita Al tao Nel momento in cui Diventa il combattente Di un sovrano Di un principe Non dona più La sua vita Al tao Non dona più La sua vita All'ignoto Non dona più La sua vita All'altrove La dona A un uomo Dona la sua virtù A un uomo Che ha degli scopi Precisi E quindi la sua Non azione In realtà È un'azione normale Perché lo scopo È quello di essere Sotto il sovrano E il sovrano Degli obiettivi Ce li ha E come dicevamo Normalmente Sono tragici Capite perché I taoisti Ce l'hanno Con i regnanti Capite perché Lao Tzu Passa a metà Del Tao Te Ching A dire ai regnanti Smettete di governare E il popolo Sarà molto più felice Le cose andranno Molto meglio Smettete di governare Dice E noi potremmo Leggere oggi Questa storiella Come se Chuanzo Ci volesse In qualche modo Far riflettere Sulla stessa questione Non basta coltivare Il Tao Non basta Entrare in armonia Con l'armonia Spontanea Dell'universo Devi anche domandarti A chi Stai votando Questa tua virtù A chi Tu stai Regalando Questo tuo Coltivare te stesso A che cosa Lo regali Lo regali Al potere Lo regali Al dominio Lo regali Al controllo E allora Non stai facendo Una buona Una non azione Allora stai facendo Un'azione Sei bravissimo A farlo Il macellaio È bravissimo Nessuno lo mette in dubbio Ma lui ha regalato Il suo essere bravissimo A un sovrano Scellerato Lui ha smesso Di fare una non azione E ha cominciato A fare un'azione normale Pericolosa Oltretutto Perché lui è bravissimo Se un grande combattente Regala a se stesso La propria arte A un sovrano Sta regalando Un'arma potente A quel sovrano E come la userà A quel sovrano Lo sappiamo Cosa fanno i sovrani Quindi anche noi Nella nostra vita Dovremmo domandarci Ok coltivare La mia virtù Ma a chi La sto Regalando Attenzione Non fraintendiamoci Non è una questione Del lavoro Che fai Tu potresti anche Fare un lavoro Terribile Che ne so Potresti assemblare Mine anti-uomo Specifiche Per bambini No Facciamo uno degli esempi Più potenti Io potrei fare Questa cosa Per mestiere Potrei fare questa cosa Perché magari Non trovo Nessun altro lavoro Mettiamo che sia In una condizione Di questo genere Qui Perfetto Questo non è che Ti impedisce Di coltivare il tao Ti impedisce Di fare non azioni E di essere Un buon taoista Al contrario La questione È dove tu metti La tua virtù Se tu diventi Il miglior Assemblatore Di mine anti-uomo Per bambini E metti dentro Il tuo modo Spontaneo Di entrare In relazione Con il mondo Lo metti All'interno Di quell'arte Lo metti All'interno Di quell'opera Allora stai facendo Come il macellaio Di Wenhui Bravissimo Sei fantastico Ma stai mettendo La tua meraviglia Nelle mani Sbagliate Invece tu potresti Comunque fare Il tuo lavoro E magari Già che stai Facendo un lavoro Tragico Potresti anche Sbagliare Un po' più spesso Del solito Potresti anche Fare in modo Che tante di quelle mine Che stai assemblando Magari non esplodano Magari esplodano In modo non così Violento Come dovrebbero Questo sta Alla tua coscienza Ovviamente Ma tu potresti Fare comunque Un lavoro tragico Ma poi Impiegare la tua virtù Altrove Ma poi Nel momento In cui io Devo esprimere Il mio modo Spontaneo Ed entrare in relazione Con il mondo Lo faccio In un ambito Che mi permetta Una non azione Che mi permetta Di esprimere Veramente me stesso Senza diventare Lo strumento Di qualche Pazzo Scellerato Per esempio Che ne so Ti piace andare In montagna A camminare Metti lì La tua virtù Metti lì La tua creatività Metti lì La tua intuizione Non la mettere In un lavoro Tragico Se quel lavoro È tragico Perché altrimenti Stai aumentando La tragedia All'interno Del mondo E a questo punto Per chiudere Potremmo domandarci Ok Ma dov'è che io Devo mettere Allora La mia virtù A che cosa Devo donare La mia bravura Il mio modo Di esprimermi Il mio modo Di entrare In relazione Con l'universo A chi lo do E beh I taoisti Ti direbbero Dallo al non essere Dallo a ciò Che è misterioso Dallo a ciò Che è sconosciuto Dallo a ciò Che non conosci E che non puoi conoscere In questo modo Farai una non azione Perché non avrai Nessuno scopo Capisci Se io mi metto In relazione Con l'altrove Se mi metto In relazione Con l'altro Nel senso Con un'altra cosa Che non è neanche Spiegabile Con qualcosa Di profondo Che però Non è conoscibile E io dono La mia virtù La mia bravura Il mio modo Di coltivare Il tao A questa parte Non ho nessuno scopo Quindi riesco a fare Una ottima Non azione E attenzione Non è che La non azione Deve essere un'azione Che tutti guardano E dicono Che bella Sta non azione La maggior parte Delle non azioni Che riusciamo a fare Sono assolutamente Non viste Da nessuno Non è indispensabile Che qualcuno guardi Perché se qualcuno guarda E ti deve dire Che sei bravo E voilà Tu comincerai A muoverti In funzione Di quel riconoscimento Invece no Regalalo all'altrove Regalalo al mondo Della poesia Regalalo al mondo Dell'altro Dell'oltre D'altronde riflettici È dove nessuno guarda Che accadono Le cose migliori Bene Siamo arrivati in fondo Anche a questo video Se avete domande Dubbi Perplessità Consigli Scrivetemi pure Nei commenti Io Non posso fare Altrimenti Che ringraziarvi Per aver visto Questo video E aspettarvi Se vorrete Al prossimo E aspettarvi Per aver visto